Ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Abruzzo. In apertura la pagina dedicata alle elezioni europee e amministrative. L'affluenza delle ore 12 racconta del 22% degli aventi diritto che si è recato alle urne per scegliere i suoi rappresentanti in Europa, in tutta la regione Abruzzo, con un dato variabile provincia per provincia. Vediamolo insieme attraverso questa slide. A Chieti ha votato il 20,72%, all'Aquila il 18,61%, a Pescara il 25,71% un dato che è in qualche modo viziato anche dal fatto che si vota nel capoluogo di Pescara e poi a Teramo il 23,65%. Per quello che riguarda invece le elezioni comunali il dato è ovviamente molto più alto, 10 punti percentuale, con il 32,10% degli aventi diritto che si è recato alle urne alle 12 di oggi. Ricordiamo che si votava dalle 15 di ieri e sull'affluenza della giornata di sabato e in generale sui candidati ci fa il punto il nostro Sergio Cinquino. Si vota anche oggi in Abruzzo fino alle 23, oltre che per le elezioni europee, 98 dei 305 comuni della regione che rinnovano i sindaci e i consigli comunali. In particolare urne aperte dopo la giornata di ieri dalle 7 del mattino. Ieri con le urne aperte solo nel pomeriggio l'affluenza in regione è stata bassa al 12,71% con la percentuale più alta di votanti a Pescara che ha fatto registrare il 17,53%. Per la concomitante presenza delle elezioni europee si vota anche nei comuni dove non sono presenti elezioni amministrative. Le sezioni complessive in regione sono così complessivamente 1.633 con la scheda di colore arancione per le europee. Per quel che riguarda invece le amministrative la scheda sarà di colore azzurro e il comune più grande tra quelli al di sopra dei 15.000 abitanti che prevedono il possibile ricorso al ballottaggio è quello di Pescara insieme con Montesilvano e Giulia Nova. Per le elezioni a Pescara si contendono la vittoria a quattro candidati. Oltre al sindaco uscente Carlo Masci, candidato del centrodestra, Carlo Costantini, espressione del centrosinistra e dei 5 Stelle, poi Domenico Pettinari per la coalizione civica e Gianluca Fusilli, Stati Uniti d'Europa. Anche a Montesilvano si ricandida il sindaco del centrodestra Ottavio Di Martinis, sfidato dal candidato del centrosinistra Fabrizio D'Addazio, con due soli candidati. A Giulia Nova invece i candidati sono quattro, oltre al sindaco uscente Ivan Costantini per il centrodestra, Alberta Ortolani per il centrosinistra e i 5 Stelle e poi Romolo Lanciotti e Daniele di Massimo Antonio. Nella ripartizione in provincia della tornata elettorale, infine Chieti, è quella con il maggior numero di comuni al voto, ben 50, nessuno dei quali però sopra i 15.000 abitanti aventi diritto al voto. Seguita da Teramo con 23 comuni, Pescara 17 comuni e l'Aquila 8, anche in questa provincia con nessun centro che andrà al ballottaggio in quanto tutti sotto i 15.000 abitanti. Dalle 23 di stasera ci sarà lo spoglio delle europee, poi dalle 14 di lunedì lo spoglio per le amministrative. E ci sono alcuni comuni in cui c'era una sola lista, un solo candidato sindaco, è il caso di Castiglion Messer Raimondo, paese di 2.000 abitanti della Vallata del Fino, nel Terramano. L'unico candidato alla poltrona di sindaco era Vincenzo Dercole, con la lista Paese che vorrei. Oggi poco dopo le 9 ha raggiunto il 40%, dunque quorum raggiunto, ora bisognerà vedere se il 50% più uno degli aventi diritto ha votato per questa lista. E ora la cronaca aggressione in discoteca Pescara, 18 anni accoltellato, è grave il punto nel servizio di Michele Natalini. Un giovane di 18 anni è stato accoltellato durante la notte tra sabato e domenica in una discoteca sul lungomare della Riviera Nord di Pescara. L'episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando il locale stava per chiudere e i clienti si stavano dirigendo verso l'uscita. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è stato colpito all'addome con un coltello. La vittima è un giovane di origini polacche, residente a Bussi sul Tirino. È stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale di Pescara. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Nonostante la gravità delle ferite al momento dell'arrivo dei soccorritori delle forze dell'ordine, il ragazzo era cosciente e non sembrava essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pescara, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel locale per far luce sulla dinamica dei fatti. L'episodio ha scosso la comunità locale, portando preoccupazione per la sicurezza nei luoghi di intrattenimento notturno. Le indagini proseguono con l'obiettivo di identificare l'aggressore e chiarire i motivi del violento gesto. E siamo a Tortoreto per parlare della morte di Giuseppe Zarroli. L'autopsia esclude il malore, l'86enne sarebbe morto per gravi traumi subiti nella caduta in bicicletta. Sull'auto del conducente trovati segni di contatto, indagato il 79enne che era alla guida della Golf. Sentiamo i dettagli nel servizio di Stefania Serino. C'è un indagato per omicidio stradale per la morte di Giuseppe Zarroli avvenuta dopo l'incidente, è accaduto a Tortoreto mentre l'uomo era in bicicletta. Ad essere iscritto è un 79enne, conducente della Golf, che rispetto al luogo in cui è stato soccorso l'86enne nel sottopasso di via Aldomoro, avrebbe fermato la sua vettura più avanti. L'auto, stando a quanto trapela, presenterebbe segnali riconducibili ad un presunto contatto sulla fiancata destra e sullo spiecchietto, ma saranno le indagini in corso a chiarire l'esatta dinamica del sinistro, anche sulla base dei rilievi effettuati dai vigili urbani. Il 79enne, assistito dall'avvocato Manrico Ciaffré, ha nominato quale consulente di parte Paolo Salvini per l'autopsia che è stata eseguita sabato dal medico legale Giuseppe Sciarra presso l'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Secondo le prime risultanze dell'esame autoptico, sarebbe da escludere l'ipotesi di un malore alla base della caduta dell'86enne, il quale sarebbe deceduto per le gravi lesioni riportate, in particolare traumi cerebrali e toracico-addominali. Bisognerà comunque attendere le risultanze definitive sull'autopsia effettuata. Unanime il cordoglio per la morte di Giuseppe Zarroli, papà del direttore di City Rumors Abruzzo. I funerali sono stati fissati a lunedì 10 giugno alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Tortoreto. Camera ardente aperta nella giornata di domenica presso l'obitorio dell'ospedale di Giulianova. E ovviamente le nostre più sentite condoglianze a Luca Zarroli, collega direttore di City Rumors e figlio di Giuseppe, deceduto in questo incidente. Due uomini sono stati invece arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che denunciati per rapina a Pescara in corso Vittorio Emanuele all'altezza di via Mazzini. I due arrestati hanno reagito con forza ai carabinieri per sottrarsi al controllo dei militari, intervenuti per una rissa segnalata nell'area di risulta di Pescara insieme con polizia e polizia locale. In seguito all'aggressione uno dei carabinieri è stato ferito e in pronto soccorso le lesioni sono state giudicate guaribili in sei giorni. Un bimbo rischia di annegare a Francavilla al mare, ma viene salvato dall'operatore acquatico. Il punto nel servizio. Un bambino di sei anni ha rischiato di annegare nelle acque vicine allo stabilimento balneare la Conca d'Oro a Francavilla al mare, ma è stato prontamente salvato dall'operatore acquatico Nicolo Pantalone, membro dell'organizzazione Angeli del Mare Fisa. L'episodio è avvenuto mentre il piccolo si trova a circa 70 metri dalla riva tra gli scogli e ha iniziato a gridare chiedendo aiuto. Pantalone che si trovava sulla torretta di sorveglianza ha notato il pericolo e ha reagito subito. Mi trovavo sulla torretta a osservare il mare calmo quando ho visto il bambino in difficoltà, ha detto, ha iniziato a sbracciare e a urlare facendomi capire che stava affogando. Ho preso il Baywatch e sono corso a soccorrerlo, riuscendo a riportarlo sulla spiaggia sano e salvo. Lo stesso giorno sulla riviera sud di Pescara sono state attivate le procedure di ricerca per due bambine scomparse. Fortunatamente sono state entrambe ritrovate poco tempo dopo. Marco Schiavone, presidente di Angeli del Mare, ribadisce l'importanza della collaborazione con la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, la FISA, che permette di formare giovani soccorritori con un alto livello di professionalità. Il mare è una meraviglia, dice, ma può rappresentare una minaccia costante, soprattutto per i bambini. I nostri soccorritori non sono solo addestrati nelle tecniche di salvamento, ma sono anche formati per prevenire situazioni di pericolo, ha precisato Schiavone, ringraziando il presidente della FISA, Raffaele Perrotta, per la preparazione del suo staff. L'intervento di Nicolò Pantalone ha dimostrato ancora una volta quanto sia cruciale la presenza di operatori qualificati e attenti sulle spiagge, pronti a intervenire in caso di emergenza per garantire la sicurezza di tutti. Non si esclude l'avvelenamento per l'orso Bruno Marsicano trovato morto nel Parco Nazionale d'Abruzzo da un escursionista che ha poi dato l'allarme. Potrebbe essere stato avvelenato l'orso Bruno Marsicano trovato nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in località Montagna Spaccata, tra i comuni di Scanno e Roccapia. La carcassa dell'animale, trovata nel pomeriggio di sabato, è stata rimenuta da un escursionista che ha dato poi l'allarme. Per quel che riguarda l'animale, da un primo esame si tratterebbe di un esemplare adulto di orso Bruno Marsicano. Il bosco in cui si trovava la carcassa dell'animale è vicino a un'area picnic e campeggio molto frequentata dai turisti nel periodo estivo nelle valli di Chiarano, tra i comuni di Scanno e Alfedena, nell'Aquilano, in una zona particolarmente frequentata anche da cercatori di tartufo. Sono intervenuti i carabinieri forestali e anche i veterinari del Parco, supportati dalle guardie del Parco e dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Sul plantigrado non sarebbero state rilevate lesioni particolari. La carcassa, posta sotto sequestro dalle guardie del Parco, è stata trasportata nell'ambulatorio veterinario del Parco a Pescasseroli per poi trasferirla all'Istituto Zooprofilattico di Teramo per la necroscopia e l'accertamento della reale causa di morte che l'ente comunicherà non appena avuta una notizia dall'Istituto. Invece a Pescara, nel corso d'acqua Fosso-Vallelunga, vicino al villaggio Alcione, ai confini con Francavilla, è stato avvistato un esemplare di nutri animale importato che distrugge la flora e la fauna e non si esclude che possano essercene altre, il che metterebbe seriamente a rischio l'habitat del territorio. Il Parco nazionale d'Abruzzo-Lazio in Molise, tramite il suo direttore Luciano Sammarone, parla di perdita enorme in riferimento all'orso marsicano che ieri pomeriggio è stato trovato morto tra Roccapia e Scanno alla base del decesso. Potrebbe anche esserci una lotta con un altro plantigrado oppure, come si diceva nel pezzo del nostro Sergio Cinquino, un avvelenamento. E ora il calcio. La Serie C il Pescara in settimana definirà il budget per la prossima stagione, passaggio cruciale per l'arrivo dell'allenatore Attilio Tesser, espertissimo nella categoria con quattro promozioni centrate. Resta confermato il contatto tra Attilio Tesser e il Pescara Calcio. L'esperto allenatore trevigiano ex Modena, che vanta quattro promozioni dalla Serie C, non ha smentito l'interessamento del Pescara ed è in attesa che la società adriatica faccia chiarezza sul suo futuro per accettare eventualmente un progetto che con Tesser alla guida sarebbe molto più credibile. Se Tesser dovesse accettare, significherebbe anche che l'allenatore esonerato lo scorso anno dalla Triestina, quando era terzo in classifica, reputa credibile il progetto Biancazzurro. Tanto il Pescara, regolarizzata l'iscrizione alla categoria in C e con il girone B, praticamente certo per il prossimo torneo, è pronta a coinvolgere nuove forze. In settimana ci saranno gli appuntamenti per definire il nuovo budget, un modo per convincere anche l'allenatore ex Modena Tesser a dire sì al DS dell'Icarri, che lo ha chiamato e che se arrivasse appunto all'Adriatico, come abbiamo detto, potrebbe significare che qualcosa per la stagione 2024-2025 di buono ci sarà. Per il momento, di certo, ci sono le cessioni, cambierà completamente il pacchetto difensivo Biancazzurro con gli addi perfezionati del centrale slovacco Ivan Masic, lanciato da Zeman, e del terzino Lorenzo Milani, passati entrambi all'Heracles Società, che milita nel massimo campionato olandese. I due, insieme con l'attaccante Merola e il portiere Plizzari, erano tra i certi partenti, ma il mercato delle cessioni potrebbe continuare con Cuppone, richiesto da diverse società professionistiche, con lo stesso Tomassini, molto richiesto in categorie anche superiori. Tra i tecnici, in attesa che il piano ambizioso per fare la squadra abbia la forza di salire, diventi qualcosa di più rispetto a un semplice proposito, oltre all'ex secondo di Zeman, Vincenzo Cangelosi, sono stati sentiti anche Massimo Brambilla, quest'anno alla guida della Juventus Next Gen, e poi pazienza, che però potrebbe avere altre destinazioni. Su quanto riguarda il Pescara, a questo punto non resta che attendere. E questo era l'ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi. Un buon proseguimento su Vera TV. Arrivederci.